Con la Kramps l'etichetta degli aree di Finardi ha spaziato da jazz, rock all'avanguardia, l'omaggio di Milano a Gianni Sassi, il ricordo di Patrizio Fariselli e Giosquillo. Protagonista della cultura d'avanguardia, Milano ricorda Gianni Sassi, fondatore della Kramps Records, comparso 30 anni fa, Lorenzo Galeazzi. Gli occhi lucidi del maestro Patrizio Fariselli quando viene inaugurata la passeggiata, l'omaggio di Milano al discografico scomparso 30 anni fa, l'intitolazione di fianco a via Demetrio Stratos, a City Life risuonano le note degli aree.